Accordo sindacale per la stabilizzazione dei precari di teatro e servizi, la partecipata che si occupa di riscossione delle tasse, di gestione dei parcheggi e servizi cimiteriali a Chieti. Un modo che permetterà di derogare il ricorso al lavoro somministrato e consentirà a 23 lavoratori interinali di continuare a lavorare per la società partecipata. Tra un paio di anni poi i lavoratori potranno prendere parte ai concorsi che apriranno le porte all'assunzione. Proprio ieri i lavoratori della teatro e servizi hanno retificato con un referendum un contratto di prossimità che ci consentirà di assumere entro il 2022 due dipendenti che lavorano con contratti a tempo determinato ormai da oltre dieci anni. E una volta che la società approverà tutti i bilanci e si doterà di un piano industriale innovativo, la possibilità per chi lavora mediante agenzie di somministrazione di partecipare a una selezione pubblica concorsuale vedendosi attribuiti dei titoli di merito per il servizio finora svolto presso la teatro e servizi. Si sente sempre più spesso dire che non si può perdere il treno dei fondi del PNRR. Come si sta muovendo l'amministrazione in questa direzione? Ma intanto noi sin dall'insediamento abbiamo partecipato a tantissimi bandi di progetti finanziati col PNRR e siamo stati ammessi ad oltre 40 milioni di finanziamento. Oggi stiamo anche riorganizzando la struttura amministrativa dell'ente. Proprio ieri in giunta abbiamo approvato su mia proposta una unità di progetto e c'è un gruppo di lavoro di coordinamento che interessa tutti i settori dell'amministrazione che dovrà valutare quali bandi possono essere al centro della nostra attenzione e soprattutto coordinare le attività amministrative di tutti i settori dell'ente.